ciao a tutte e bentornate in questo nuovo video oggi il nuovo video acquisti questa volta vi mostrerò gli acquisti fatti sul sito di passione unghie per il mese di luglio come al solito innanzitutto ringraziamo naomi che è stata la ragazza che si è occupata del mio ordine poi solito modulo di reso vediamo poi le cosine che mi sono arrivate allora vabbè un po di fluriball poi questo mese o ci sono novità le forbicine nuova collaborazione di passione unghie con stalex sono uscite due due forbicine nuove queste che sono quelle da 21 mm e c'erano anche quelle da 18 in realtà avrei acquistato entrambe soltanto che io ho fatto l'ordine sabato stavo dicendo al momento in cui ho fatto io l'ordine quelle da 18 mm erano già sold out perciò mi sono affrettata a fare l'ordine per paura che poi finissero anche queste infatti attualmente se entrate sul sito trovate sold out sia queste che quelle altre spero le riforniscano però appunto sono queste ve le apro così vi faccio vedere per bene la punta questa è la punta poi ho deciso di acquistare anche queste che sono le forbicine classiche quelle da 3 euro e 50 se non erro che trovate sempre sul sito di passione e queste le ho prese più che altro per tagliare le cartine queste appunto le userò per le cuticole mentre queste per le cartine avrei preso volentieri anche le altre perché non ho non ho ancora esperienza con le forbicine perciò non dovessi trovarmi bene con queste perché sono troppo lunghe mi sarebbero andate bene le altre però comunque per il momento va benissimo anche così questo mese mi sono arrivati questi glitter arancioni fluo veramente bellissimi periodo estivo secondo me ci stanno un sacco grazie dell'omaggio grazie dell'omaggio poi ho acquistato due pennelli questo mese sono andati in sconto due pennelli ovvero e li ho acquistati entrambi appunto point che è questo molto carino e poi il deco due che è questo qui bellissimo anche questo altro acquisto questo set di oli per cuticole e ve lo mostro per ultimo perché ho anche no in realtà il colore ve lo lascio per dopo guarda che andiamo anche a stenderlo insieme allora ci sono all'interno cinque olietti per cuticole i prezzi come al solito cercherò di lasciarveli in sovraimpressione allora abbiamo tè verde rosa vaniglia bubblegum e tropicale tropicale devo dire che è quello che mi ispira di meno perché lo hanno usato e non è non mi fa impazzire all'interno ci sono 4,5 ml di prodotto in ciascuno di questi di questi olietti appunto sono molto carini hanno il pennellino classico e non sono come non sono come la variante grande insomma che hanno la pompetta però carinissimi anche questi questo è il pennellino molto belli e devo dire che sono anche molto pratici perché appunto essendo così piccoli li terminate in fretta insomma carini poi ho preso un colore semi permanente in offerta questo mese ed è fragola fragola flash si tratta dell'SP123 andiamo ad aprirlo carinissimo carinissimo andiamo anche a stenderlo questo è il risultato di fragola flash con due passate eccolo qua molto carino questi sono stati i miei acquisti per questo mese sul sito di passione unghie io vi mando un grosso bacio e ci vediamo il prossimo video ciao ragazze ciao ciao ciao